Buongiorno ragazzi, io sono Kelly Jones, condurrò la riunione. Con tutto il rispetto, signora Jones, noi vendiamo auto sportive agli uomini. Vendete qualcosa che la concorrenza non ha. 355 cavalli per lui, cinture di sicurezza per la famiglia. Vostra moglie vuole che abbiate questa Mustang. Per fortuna non si sono rotte le acque lì dentro. Il supporto pubblico alla missione lunare ha toccato il fondo. Ogni giorno c'è qualcosa che si rompe. Siamo morti? Di nuovo? O salta in aria? Il programma spaziale è un disastro unico. Alla NASA serve uno specialista in marketing e in giro si dice che lei sia la migliore. Scusate, lei deve essere il terrore di Manhattan. E lei deve essere il direttore del lancio. Ora lavoro qui, vendo la luna. La NASA non è un oggetto che si vende con un jingle e uno slogan. Quei tre saranno più famosi dei Beatles. Chi è quello? Per me è molto personale. Lì c'è il mio nocchio. Ha detto che i suoi uomini non rilasciano interviste e li ho sostituiti. È qui il casting? Lui chi è? Lei ha una parte interessante. 60 missioni in Corea. Ho fatto 52 missioni in Corea. Ho fatto 52 missioni in Corea. Com'era? Cosa? Il mondo intero starà a guardare. Non possiamo farci battere dai russi. Dobbiamo girare una versione di riserva dell'allunaggio. Vuole dire un falso? Nessuno dovrà mai sapere cosa facciamo. Questo io non l'accetto. Allora ti uccideranno. Quanto è il mio budget? Oh, cavolo. So tutto quello che c'è da sapere sulla luna, ma niente su di te. Dammi il go, no go per il lancio. Se filmi una finta missione, ogni cosa che abbiamo sacrificato non sarà servita a niente. Tu non ce l'avresti fatta senza di me. Quattro. Tre. Due. Uno. E... Il mio Armstrong è uno stronzetto, va cambiato. Dovevamo chiamare Kubrick.